Tu che cazzo ci fai qua? Non dovresti inserire a lavoro? Dado della spazio invece di portare a casa quattro anni. Ha bisogno di un medico, o almeno di una farmacia. Lascia stare Odento, è soltanto. Adesso è un medico. Lasciami! Sì, mi lascia becca! Ma lei non ha una famiglia. Il pianoforte mi è sempre piaciuto, la possiedi uno? Sei nervoso. Una ragazza come te non deve stare qui. Tu meriti molto di più. Vittorio!